Una buona serata edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara perché questa mattina c'è stata una grande festa per il taglio del nastro del ponte Flaiano. E' intervenuto anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, tutti particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Tanti cittadini ma anche molti bambini delle scuole pescaresi hanno fatto da contorno questa mattina al battesimo del ponte Flaiano da parte del ministro Graziano Del Rio che al fianco del presidente della giunta Luciano D'Alfonso ha confermato la grande attenzione del governo nazionale per le infrastrutture regionali. Sì, una bellissima giornata per Pescara, complimenti al sindaco, al presidente della regione, a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto che unisce due pezzi di città, le rende più bella, più fruibile e anche più sostenibile con le ciclabili, quindi molto bene. Un investimento sulla qualità di vita della nostra città molto importante. Beh, abbiamo lavorato col presidente D'Alfonso in maniera molto intensa in questo anno e mezzo e abbiamo fatto quindi un programma di sviluppo delle infrastrutture, affrontando tutti i nodi, dalla 16 fino alla 17, a tutte le... alla Civitaluparella e quindi abbiamo messo in fila tutte le robe, compreso lo sviluppo dell'aeroporto, compreso lo sviluppo dei porti. Come ho sempre detto con Luciano che stimo e apprezzo la nostra programmazione, accompagnata dalle risorse giuste, avrebbe cambiato il volto dell'Abruzzo e credo che i cantieri che stanno per iniziare, le aggiudicazioni che stiamo per fare, dimostrino che abbiamo seguito la strada giusta, quella di pianificare, di programmare, di mettere le risorse. Adesso davvero i cantieri possono partire. Il 23 di giugno, come sa bene il ministro, apriamo le buste per la Fondo Valle Sangro, 190 milioni di euro più 30 attesi da 40 anni. Io ringrazio molto il ministro del Rio, Graziano, ringrazio il nuovo corso di Anas e ringrazio anche l'atteggiamento responsabile degli enti locali. Un grande grazie anche a Fiat Sevel che ha atteso, ha aspettato, senza abbandonare l'Abruzzo e adesso dopo 40 anni di aspettativa finalmente ci siamo. E sempre a Pescara, invece questa mattina sit-in di protesta dei lavoratori della Daico. Vediamo. Vicepresidente Lolli, questa mattina c'è questa protesta, questo sit-in dei lavoratori della Daico qui dinanzi alla regione di Pescara. Lei ha incontrato una delegazione anche di sindacalisti. Cosa chiedono questi lavoratori? Ma qui siamo di fronte a una vicenda che non nasce oggi. Noi abbiamo già da tempo seguito insieme alle organizzazioni sindacali e alle RSU questa vicenda della Daico. Parliamo delle aziende più importanti, è un vero gioiello del nostro territorio che ha diversi stabilimenti, a Manoppello, a Chiedi, ma anche a Chiediscalo, ma anche a Colonnella. E' un'azienda che in questo momento ha una produzione intensa, realizza utili, quindi dovremmo stare tranquilli. In realtà non stiamo tranquilli, non stiamo tranquilli perché guardiamo un po' il futuro di questa azienda. E siamo molto preoccupati dal fatto che un'azienda che opera nel settore dell'automotive con produzioni importanti, non ci garantisce sul futuro, non ci presenta un piano industriale credibile, non sta investendo in ricerca e sviluppo e piuttosto sta facendo una serie di atti che sembrerebbero andare in direzione di indebolire piuttosto che di rafforzare. Noi l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo anche firmato con le organizzazioni sindacali e l'azienda un protocollo presso la regione, un protocollo nel quale l'azienda si impegnava, qualunque tipo di eventuale iniziativa, di comunicarla al sindacato. Il problema principale è che l'azienda sta mettendo in campo alcune operazioni senza contrattarle con noi sindacato, che siamo stati sempre disponibili nel corso degli anni a trovare soluzioni anche a situazioni più difficili. Quindi questo cambiamento di rotta, questo cambiamento di atteggiamento ci ha portato a manifestare. E più alcune operazioni di smandellamento su R&D e qualità ci porta a cominciare ad avere qualche campanello d'allarme. Non ci sono stati però licenziamenti? Ci sono stati spostamenti, quindi non sono licenziamenti veri e propri, però quando tu indebolisci dei reparti, cioè togli delle mansioni, indebolisci giustamente, sono sempre degli esuberi, perché se togli due persone, una sala prototipi, hai creato due esuberi. Ci spostiamo all'Aquila adesso, sequestro della Guardia di Finanza, 700 mila euro ad una società con sede fiscale nel capoluogo della nostra regione con l'accusa di omesso versamento dell'IVA. Daniela Rosone. I finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni mobili e immobili per un valore pari a circa 700 mila euro emesso dalla locale autorità giudiziaria nei confronti degli amministratori di una società operante nel settore della costruzione di infrastrutture viarie, responsabile di omesso versamento dell'IVA. La società con sede fiscale all'Aquila aveva svolto dei lavori anche per l'Expo. La misura cautelare, si legge in una nota, è giunta al termine di complessi accertamenti contabili a seguito dei quali è emerso che la società, in liquidazione dal settembre del 2014, è già destinataria di un atto di accertamento emesso dalla locale agenzia delle entrate e che ha maturato nei confronti dell'erario un debito IVA pari a 750 mila euro. A fronte di tale posizione debitoria la società aveva avviato un piano di rateizzazione dell'imposta consistente nel pagamento di 20 rate mensili da 61 mila euro ciascuna che però è stato interrotto dalla società stessa dopo il pagamento della sola prima rata. I finanzieri hanno intrapreso così articolati e complessi accertamenti patrimoniali tesi ad individuare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli amministratori della società per un valore pari all'imposta non versata e cioè 700 mila euro circa importo corrispondente all'IVA non versata 750 mila euro a netto dell'unico pagamento rateale effettuato dalla società come dicevamo 61 mila euro. La lotta alle frodi fiscali da sempre costituisce una delle priorità per la Guardia di Finanza che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dall'evasione fiscale. È iniziato il processo in Corte d'Assise a Lanciano relativa all'inchiesta sul ricovero per anziani l'Arcobaleno. Prima udienza con la Costituzione delle parti la Corte ha rigettato l'eccezione avanzata dalla difesa degli imputati che chiedeva la nullità del decreto di giudizio immediato con la restituzione degli atti al PM di Florio e l'immediata liberazione di entrambi gli imputati per tornare alle indagini preliminari. Prossima udienza il 14 luglio. Gliene davano di santa ragione come si vede e si sente nelle intercettazioni videoambientali dei carabinieri di Vasto agli anziani ricoverati nella struttura l'Arcobaleno. A meno di un anno dagli arresti per concorso in maltrattamenti, lesioni volontarie, aggravate perché seguite dalla morte della persona offesa e abbandono di incapaci con gli aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato se vizie, inizia il processo in Corte d'Assise a Lanciano per i due imputati, Carmela Guglielmo, 49 anni, e il suo convivente Lucio Ramundi, 59. Prima udienza con la Costituzione delle parti. La Corte, presieduta da Marina Valente, giudice all'ateri Andrea Belli, oltre a sei giudici popolari, ha rigettato l'eccezione avanzata dalla difesa degli imputati, che chiedeva la nullità del decreto di giudizio immediato con la restituzione degli atti al PM di Florio e l'immediata liberazione di entrambi gli imputati per tornare alle indagini preliminari. Il processo, dunque, resta a Lanciano. Prossima udienza il 14 luglio, con l'inizio della fase di escursione dei testi, che saranno ammessi in numero non superiore a 19 per parte. La Procura, con il sostituto Gabriella De Lucia, mostrerà in aula quattro intercettazioni videoambientali, oltre ad altre intercettazioni telefoniche per le quali sono state chieste le trascrizioni. Si sono costituite anche tre parti civili. Per Carmine Sozio, l'avvocato Alessio Mucci ha chiesto 20 mila euro. Per Federico Di Renzo, l'avvocato Luigi Masciulli ha chiesto 30 mila euro. Per Luisa Zara, l'anziana malmenata nel video, l'avvocato Fiorenzo Ceri ha chiesto mezzo milione di euro. La signora Zara è quella che nelle immagini dei carabinieri viene ripresa, mentre viene percorsa. Noi chiediamo risarcimento del danno che abbiamo prudenzialmente quantificato una misura di mezzo milione di euro e quindi insisteremo per la condanna sia penale, quindi per le statuzioni penali che per quelle civilistiche. I carabinieri eseguirono il blitz all'arcobaleno di Via Vico a Basto il 21 luglio 2016, a seguito di indagini scattate su varie segnalazioni. La procura contesta agli imputati la morte di un ospite. Torniamo all'Aquila, perché il candidato sindaco del centro-sinistra, Americo Di Benedetto, si sta preparando al ballottaggio. No a confronti con il candidato del centro-destra, Pierluigi Biondi, ma un rafforzamento dell'attività sul territorio e programmi mirati. Il programma è otto giorni di campagna elettorale per il ballottaggio con comizi sul territorio ed eventi su programmi tecnici. È quanto farà Americo Di Benedetto, candidato sindaco del centro-sinistra, nei giorni che lo accompagneranno sino al 25 giugno, giorno di nuovo voto. Un'agenda ricca ma non troppo eccessiva. Del resto il lavoro, a più volte detto, è stato già fatto ed ora, passato il tempo dell'analisi politica del voto, è già ora di rimettersi in moto. Una sorta di autoderminazione, ha detto, senza troppi confronti con il candidato del centro-destra, Pierluigi Biondi. Parola d'ordine, grande organizzazione, grande entusiasmo, volontà di ripercorrere in maniera importante e precisa questi giorni a venire sul progetto che noi abbiamo e sull'idea della città e soprattutto organizzandoci, dandoci uno strumento di programmazione per l'appunto da divulgare sia agli organi di stampa, ai media, a tutti i media, alle associazioni e agli elettori soprattutto. Quindi noi ci siamo autodeterminati su un'organizzazione prospettica della campagna elettorale perché abbiamo pochi giorni e dobbiamo avere le idee chiare su come affrontarla. Prima della conferenza stampa una riunione con i rappresentanti dei partiti candidati con lui per gettare le basi di una campagna elettorale condivisa, precisa e puntuale. Di Benedetto è escluso l'arrivo del segretario del PD Renzi che non ha partecipato a nessuna campagna elettorale ma ha annunciato che potrebbe arrivare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti oppure Sala da Milano. Ci serve sempre prudenza in ogni azione rinnovata riparti dalla partenza, non parti dall'arrivo così come è stato subito dopo le primarie per affrontare le elezioni, dopo le elezioni per affrontare il ballottaggio ma con grande determinazione e con una grande forza che non è quello del risultato, è quella della proposta. Noi siamo forti della nostra proposta che ha ricevuto un consenso, siamo forti del risultato ma vogliamo quel risultato non solo confermarlo ma addirittura implementarlo perché abbiamo altri giorni per poter dimostrare che la nostra proposta politica e amministrativa è una proposta seria, equilibrata, rispettosa delle esigenze della città ma soprattutto ben declinata attraverso un modo di fare che è il modo di fare che i cittadini si aspettano, cioè il giusto equilibrio nel rapporto con i cittadini, il giusto rispetto, la giusta sensibilità e il giusto stile. E invece a Teramo grave crisi politica nel Partito Democratico. Gian Guido D'Alberto, ex capogruppo del PD al Comune, i due consiglieri comunali Francesca Di Timoteo e Ilaria De Santi s'hanno annunciato la loro fuoriuscita dal Partito Democratico definendolo assente e litigioso. D'Alberto ha confermato la nascita di un nuovo progetto politico che sarà sostenuto anche dai rappresentanti della lista civica Teramo Cambia e da associazioni culturali. Culturali cittadine, il servizio d'Italia, Bonnici Castelli. Terremoto nel PD Teramano. Il capogruppo al Comune, Gian Guido D'Alberto, annuncia la fuoriuscita dal Partito Democratico insieme ad altri due consiglieri comunali, Francesca Di Timoteo e Ilaria De Santis. Sostenuti anche dai due rappresentanti della lista civica Teramo Cambia e da associazioni cittadine, i fuoriusciti annunciano la nascita di un nuovo progetto politico per liberare la città di Teramo da Brucchi. Perché fuori dal PD? Sì, quella che abbiamo fatto come consiglieri comunali, tre consiglieri comunali del gruppo PD, la decisione di uscire dal gruppo fa seguito alla decisione di qualche giorno fa della dimissione dal capogruppo in Consiglio Comunale per una situazione, per quanto mi riguarda, di incompatibilità con lo stato attuale, la situazione del PD Teramano. Non riesco più a sentirmi rappresentato da questo partito e a rappresentarlo, soprattutto nei metodi di fare politica perché comunque registriamo e notiamo una spaccatura forte, una logica tutta correntizia e di conservazione e lotta di potere fra gruppi e correnti che è legata solo a destini individuali dei singoli e di gruppi rispetto ai quali se sei fuori da questo sistema non riesci comunque a dire le cose che pensi, che credi politicamente e questo è quello che mi riguarda perché se io quotidianamente mi oppongo e mi contrappongo al sindaco Brucchi e a questo centrodestra Teramano nel dire che è inaccettabile questa gestione del potere, questa lotta di poltrone, questa corsa solo e esclusivamente ai destini individuali dei leader politici e di fatto diventa non credibile questa azione perché spesso nel Partito Democratico e nel Partito Democratico Teramano si riproduce lo stesso schema, ovviamente questo rende non credibile la nostra azione politica. Gian Guido D'Alberto, stimato e ben voluto, era da tempo la figura di riferimento per il PD Teramano come futuro candidato sindaco pur nel rispetto della regola delle primarie. La cosa che stupisce è che i vertici del Partito Democratico non abbiano fatto nulla per arginare questi addi. È stato contattato dagli organi del partito dopo la sua fuoriuscita? Se parliamo degli organi di vertice, quindi le segreterie provinciali, regionali, presidente della regione, no, quindi evidentemente non c'era questa grossa, non c'era la concezione di quello che è la situazione del PD Teramano che invito seriamente e mi auguro possa fare una riflessione. Noi oggi partiamo con questo gruppo che vuole essere comunque una base di partenza per un progetto nuovo, aperto alla città, che voglia cambiare nei metodi, nel metodo di fare politica, il rapporto appunto tra politica, istituzioni e città. Perché questa città, io lo ripeto sempre, non ha bisogno di un altro gruppo di potere che si sostituisca ad un altro. Questa città va liberata e noi ci opporremo a qualsiasi operazione che abbia questo fine, anche qualora dovesse assumere dei contorni gattopardeschi. L'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, organizzato per sabato 17 giugno a Teramo nella sala polifunzionale della provincia a partire dalle ore 17, un incontro pubblico per confrontarsi con le istituzioni ma anche con i laboratori e la strada dei parchi. Intanto la Ruzzo Reti scrive a tutti i cittadini terramani per fare chiarezza. L'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso si confronta a Teramo con regione, parco Gran Sasso Laga, laboratori e strada dei parchi. Quanto è accaduto dal 2002 ad oggi, secondo l'osservatorio, mette in discussione la relazione di fiducia tra cittadini e organizzazioni sociali, intermedie da un lato e istituzioni preposte a controllare e garantire la potabilità dell'acqua dall'altro. Siamo in una fase molto strana di questa vicenda dove c'è un grande rimpallo di responsabilità e un grande negare l'evidenza. Stiamo cercando, parlando direttamente con i soggetti coinvolti e stiamo cercando di metterli in relazione per cercare di acquisire informazioni. Abbiamo già preparato un primo documento, possiamo chiamarlo un piccolo dossier, su quello che è accaduto, quello che è stato fatto in passato, su quello che è accaduto dal 2002 a oggi, ripercorrendo un po' tutte le fasi dei lavori, di commissariamento e di spesa pubblica. Chiederemo conto di alcune situazioni, di alcune contraddizioni che abbiamo individuato e cercheremo anche di comprendere i primi passi per cercare di risolvere i problemi, che prima di tutto sono di comunicazione fra gli enti e di organizzazione, fra tutti gli enti coinvolti in questa situazione. Dal canto suo, la Ruzzo Reti ha inviato a tutti i cittadini, insieme alle ultime bollette, una lettera che invita a difendere insieme l'acqua del Gran Sasso, la nostra risorsa più preziosa. Scrive la Ruzzo ai Terramani, siamo convinti che la convivenza dei tre sistemi, di captazione, autostrada e laboratori sia possibile e per questo auspichiamo un intervento sinergico di tutte le parti interessate per il miglioramento degli standard di sicurezza. Allo stesso tempo assicuriamo che faremo la nostra parte di più e meglio per garantire ogni giorno la trasparenza dei dati sulla qualità dell'acqua e il monitoraggio in tempo reale delle sorgenti e delle fonti di approvvigionamento. Storia, sport e vita vissuta della piccola comunità terramana di Bisenti si intrecciano. Nel libro Il teatro di una favolosa opera, scritto da Vincenzo Luca Salini, edito da Il viandante di Arturo Bernava. Ascoltiamo l'autore nell'intervista di Alfredo Primante. Questo libro parte dal ricordo di una figura storica e importantissima per Bisenti, quella di Rocco Salini, però poi si allarga alla storia, alla vita vissuta del paese. Rocco Salini è stata una figura portante per il nostro territorio, ha fatto tanto per la vallata, ha voluto fare questo ricordo. Poi da questo siamo partiti, soprattutto per Bisenti, un paese che nell'ultimo periodo è stato colpito dalle calamità naturali, quindi questo libro rappresenta anche un invito a cercare di ripartire per vivere nuove emozioni. Tra l'altro da questo libro traspare l'amore per lo sport, per la squadra locale. Sì, sono stato dirigente del Bisenti Calgio per quattro anni, vivendo dei momenti indimenticabili. Abbiamo ottenuto una promozione in prima categoria, ci siamo salvati l'anno successivo, si tratta di un paese di duemila anime, quindi i risultati sono stati molto importanti e lusinghieri. Io penso che lo sport a livello ma a livello direttantistico rappresenti un'isola felice. Nel libro ho voluto raccontare questi quattro anni vissuti intensamente nel Bisenti Calcio, riportando anche le cronache delle partite più significative e più emozionanti di questi meravigliosi anni. Come è stato scritto nella prefazione da Simone Gambacorta, che ringrazio per la sua immensa considerazione nei miei confronti, il libro è dedicato a Bisenti ma è un dono alla collettività bisentina. Invito a leggere il libro perché rappresenta proprio uno spaccato della vita vissuta di un territorio che è piccolo, tra virgolette, da un punto di vista proprio geografico, però ha molto da dare, ha dato molto e io penso che nel futuro potremo ancora essere protagonisti. Apriamo la pagina di sport e partiamo ovviamente con il Pescara, giornata milanese. Ieri per il presidente Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Luca Leone, invia di definizione l'arrivo del centrocampista Andrea Palazzi dall'Inter. Con la Juventus c'è distanza tra domande e offerte invece per la cessione di Mamadou Koulibaly. Il servizio è di Andrea Costantini. Pescara a Palazzi dritti verso il sì. L'entourage biancazzurro è pronto a regalare a Zdenek Zeman un ottimo prospetto che nell'ultima stagione si è molto ben comportato, giocando oltre 30 partite con una rete all'attivo con la maglia della Provercelli. Classe 96 Andrea Palazzi è di proprietà dell'Inter e nel centrocampo del Boemo sarebbe una delle due mezze ali. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Pescara, diritto che diventa obbligo in caso di pronto ritorno in Serie A del Delfino. Quella di ieri pomeriggio però è stata una giornata saliente per il presidente Sebastiani e il DS Leone per le vicende Gans e Koulibaly. Nell'incontro avuto a Milano con la Juventus sono stati questi i temi principali. Simone Andrea Gans vuole approdare in rival adriatico la formula migliore per il Pescara e quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ma la Juventus vuole cedere il figlio d'arte a titolo definitivo. La volontà del calciatore di giocare alla corte di Zeman è determinante e per qualsiasi definizione bisognerà comunque attendere la fine della prossima settimana, poiché l'Ellas Verona ha un diritto di opzione da poter esercitare. In quel caso la Juventus andrebbe con la contro opzione per poi dirottare Gans in biancazzurro. Situazione interlocutoria per Mamadou Koulibaly. C'è una notevole distanza tra l'offerta della Juventus, un milione di euro, e le pretese del Pescara, 4 milioni. Ci si riaggiornerà col presidente Sebastiani che nel frattempo ascolterà altre offerte, mentre la Juventus potrebbe a sua volta inserire alcune contropartite tecniche. Quella che interessa di più è la mezzala Mattia Vitale, ex lanciano, nell'ultimo anno a Cesena. Rispetto a quanto vi abbiamo riferito ieri, strada sempre più in discesa con l'Atalanta per i prestiti degli attaccanti esterni Cristian Capone e l'ivoriano Emmanuel Lattelat, mentre l'Inter, con cui è in piedi l'operazione Palazzi, sembra indirizzata verso il Noal, prestito del terzino della primavera, Federico Baglietti. Continuano i sondaggi dall'estero per il capitano Leydian Memuschai, dopo gli svizzeri del Sion, hanno chiesto informazioni anche i francesi del Lille, ma l'addio del centrocampista albanese è tutt'altro che scontato. Scendiamo in Lega Pro adesso perché c'è anche l'ufficialità Antonino Asta, il nuovo allenatore del Teramo. Questa è la comunicazione presa proprio dal sito della società Biancorossa Asta, originario di Alcamo, si è legato alla società del presidente Campitelli per la prossima stagione con, lo leggete, opzione anche per il secondo anno. Dunque, dopo Monza, Bassano, Lecce e Feralpi, Salò, per Antonino Asta ci sarà questa nuova esperienza in Abruzzo, sulla panchina del Teramo. E allora andiamo a vedere che tipo di Teramo sarà. Antonino Asta è il nuovo allenatore del Teramo. Adesso c'è anche l'ufficialità arrivata dopo l'incontro di questa mattina tra la dirigenza Biancorossa e il tecnico originario di Alcamo che ha siglato un contratto con il club presieduto da Luciano Campitelli. Un'accelerata improvvisa quella per l'allenatore e un accordo raggiunto nell'incontro romano. Era evidente che dopo l'ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, Giorgio Repetto, per il diavolo non c'era più tempo da perdere. E così è arrivata subito la fumata bianca. D'altronde Asta è sempre stata la prima scelta del sodalizio teramano. Lui aveva già in più di una circostanza fatto sapere di gradire la destinazione, che vuol dire rilancio dopo una stagione in chiaro scuro in Lombardia. Dunque tutto fatto. Si riparte da Asta dunque dopo un'annata che ha visto tanti allenatori alternarsi con diverse fortune sulla panchina del Teramo. E da domani dunque inizierà davvero il nuovo corso, ma anche la possibilità di valutare tecnicamente la rosa a seconda delle esigenze del nuovo allenatore, che predilige un modulo 4 e 3. Ci sarà da capire quanti e quali elementi faranno ancora parte di un organico che per il momento vede molti giocatori sotto contratto e che probabilmente non rientreranno più nei piani tattici del diavolo. Che dovrà anche abbassare drasticamente sia il monte in Gaggi che l'età anagrafica. Probabile che una mano venga da quei giovani prospetti di scuola pescara che hanno già maturato una discreta esperienza in Lega Pro e che sarebbero pronti a sposare il nuovo progetto Teramo. Ventola e Polidori sono due nomi che potrebbero fare al caso del club bianco-rosso, la cui vera sfida sarà quella di rilanciare, grazie al nuovo allenatore, una squadra che dovrà avere una base solida per poter programmare un futuro più stabile. Parliamo di calcio a 5 adesso per la terza volta. Su quattro gare sono i calci di rigore a decidere le sorti di Pescara e Luparenzi. I tiri dal dischetto tornano a premiare, però la compagine veneta che si aggiudica partita e lo scudetto. Ai biancazzurri restano gli applausi dei tantissimi tifosi accorsi al palaestra di Verona per la prestazione generosa nonostante le tante difficoltà. Un Pescara commovente non ce la fa trascinare la serie a gara 5. I rigori sono ancora una volta fatali e lo scudetto va alla Luparenze che con il sesto tricolore conquistato diventa la squadra con più titoli italiani in bacheca. Ci ha provato la squadra di Colini ad andare oltre le poche energie rimaste e si è aggrappata con le unghie e con i denti ad una gara che l'ha vista sempre sotto. C'era la volontà di non deludere le migliaia di pescaresi che hanno raggiunto il palaestra di Ancona grazie a treno e pullman messi a disposizione dal Pescara Calcio a 5 ma anche attraverso mezzi privati. Un vero e proprio esodo mai visto per una gara di futsal. Stringono ancora i denti leggero e Salas che Colini impiegherà in una partita che vede iniziare meglio la Luparenze che a quinto passa in vantaggio grazie ad Onorio. Con Bertoni recuperato e Ramon al posto dell'acciaccato Mancuso i lupi raddoppiano con il contropiede finalizzato data borda su assist di Ramon. Pescara alle corde ma che reagisce prima dell'intervallo con la sassata di Cimanghigno che dimezza il distacco. La partita si fa ancora più avvincente nella ripresa con gli ospiti che non la chiudono neanche quando il Pescara perde Cimanghigno espulso per sommagli ammunizioni. Ultimi tre minuti al cardiopalma Mati Rosa indovina il tiro del 2 a 2. Dopo 30 secondi Ramon portiere di movimento sorprende Capuozzo. Sembra fatta ma a 9 secondi dalla fine Pescara si rialza ancora con la correzione di Giacomo Azzoni su tiro cross di Salas. 3 a 3 e si va ai rigori ma il Pescara non ne ha più. Segna Morgado, sbagliano Salas e Cuzzolino. Ai lupi bastano due rigori di Foglia e Coco Wellington. Scudetto alla squadra di Marin ma applausi convinti per questo Pescara col rammarico però che senza quel finale burrascoso di gara 1 la serie avrebbe avuto probabilmente un altro epilogo. Peccato davvero. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Il Tg6 torna domani puntuale alle ore 14. Vi ringrazio per la cortesia attenzione e vi auguro una buona notte. grazie a tutti.